Amici di Veggie Italiano, bentornati. Come molti di voi già sapranno, abito in un borgo medievale tra i più belli d'Italia, che si chiama Sermoneta, nel centro Italia, vicino Roma Sud. Questa qui è una zona molto buona, in particolare quella di Sezze, che è il paese di Mitrofo, a Sermoneta. Sezze è famosa per i carciofi. Questo è il periodo dei carciofi e quindi stasera il mio maggiordomo, che sono io, mi ha consigliato di fare una frittata con i carciofi e mi ha trovato d'accordo. Per cui stasera andremo a vedere come si fa, ovviamente senza uova, una frittata vegana con farina di ceci e carciofi. Come avrete notato, sarà una dura prova, è una ricetta molto complessa. Lo capite da soli dagli ingredienti. Abbiamo il carciofo famoso di Sezze, biologico. La farina di ceci, 100 grammi. Olio extravergine d'oliva. A garlic clove, uno spicchio d'aglio. E il sale, nella fattispecie, aromatizzato da me, ma ci potete mettere qualsiasi tipo di sale. Come avrete già notato da altri miei video, la pulizia del carciofo è praticamente molto crudele, perché non ne rimane molto. Del resto sarebbe immangiabile, quindi è bene farlo subito. Ora la vado a tagliare a fettine e poi lo metto dentro l'acqua acidulata con il limone, altrimenti diventerebbe nero. Nella farina di ceci ho aggiunto del sale aromatizzato, la curcuma, mezzo cucchiaino. Adesso ci vado ad aggiungere un po' di pepe. Piccola notizia, sapete che la curcuma è l'anticancerogeno più potente al mondo e che unito con il pepe moltiplica, decubblica le sue proprietà benefiche. Ora ci vado a mettere l'acqua in modo da ottenere la consistenza delle uova sbattute. Godesto è il risultato. Vi piace? Viene dall'Umbria, da Torgiano, vicino a Perugia. È una coppia dove lui mette in forno la terracotta, gli dà una forma e la mette in forno e lei le dipinge. Ora partiamo subito con l'olio. A me piace aiutare gli artigiani che ci hanno reso famosi in tutto il mondo, italiani. Questo è l'olio extravergine d'oliva e loro hanno fatto anche questo. Ora partiamo con l'olio in questa pentola antiaderente. Io ho buttato tutte quelle in teflon, questa non credo sia migliore, però per certi versi, almeno una volta ogni tanto, senza usare mai posate di metallo, io ho solo questa. Scalbo l'olio e ci vado a mettere, dopo la classica frase scaramantica, gracco decrocco e ci vado a mettere l'aglio e poi se volete voi ci potete mettere anche il peperoncino. Quindi lo faccio in due diro un pochino, dopo di che andrà tolto e ci metterò i carciofi. Ho montato la pronna, perché il momento si fa pericoloso con l'olio bollente, ho sciacquato i carciofi e li ho messo in padella. Adesso li lascio cuocere un pochino, girandoli spesso ma tenendoli in coperti. Uso questo copertio perché è piatto e quindi dopo mi eseguirò nel girare la frittata. Sono un mago nel girare le frittate. Ho messo un pochino d'acqua, perché se mi piacciono morbidi i carciofi è giusto metterci un po' d'acqua, altrimenti verrebbero un po' troppo fritti. Vedete il nostro carciofo è cotto e adesso ci vado ad aggiungere la nostra farina di ceci cercando di mandarla un po' dapportutto. Poi deve essere interessante questa tensione di frittata dentro il pane fatto ieri. Due fette di pane con la classica frittata deve essere secondo me molto buona. Perché anche noi vegani possiamo divertirci in cucina. Ci dipingono tristi ma in realtà siamo tutt'altro. Anzi, non abbiamo neanche complessi di colpa quando siamo sazi. Questa è una cosa divertente, molto buona e si può, ripeto, anche con un bel panino, picnic. Insomma, è una bella soluzione. Ho girata, non vi dico come, con l'aiuto del mio maggiordomo che sono io e con l'aiuto della mia fantesca che sono io ho fatto i numeri, veramente i numeri. Non è venuta precisissima da video però io ne sono soddisfatto. Ed ora la ricopro e la lascio cuocere anche dall'altra parte. Guardate che meraviglia! Per la cottura non serve molto tempo e sono già esibito nel girare la frittata e ora vi volevo parlare di una cosa piuttosto importante che è l'abbinamento del vino con i carciofi. In realtà pare che sia un vero problema. Quindi io da assolutamente inesperto vi posso consigliare un traminer, un Gevuz traminer che è delle zone di dove sono nato io oppure rosso, un primitivo. e questa è l'unica cosa che mi sento di consigliare perché è abbastanza difficile l'abbinamento. No, stavo ridendo col mio maggiordomo che sono io. Vi ringrazio per le visualizzazioni e per i vostri incoraggiamenti perché questa è la cinquantesima ricetta anzi un brindisi a noi che ci piace tanto cucinare vegano senza violenza. A proposito, questa è la nostra frittata di carciofi sicuramente molto buona direi che è venuta anche molto bene non vi dico i numeri per girarla però se seguite pedisseguamente le mie istruzioni questo è un piatto non è una prova che ho fatto questa come in altri video questo è veramente un piatto sicuro funziona, è buono vi invito a iscrivervi al canale Veggie Italiano se già non l'avete fatto a mettere un mi piace a questa ricetta se vi è piaciuta e a scrivere nei commenti le vostre prove perché la potete fare anche con le zucchine con le patate la potete fare come meglio crezete perché noi vegan siamo più liberi degli univori di fare quello che ci pare perché va quasi sempre bene buona serata e buon appetito ciao